Ciao a tutti ragazzi Forse non è l'ideale partire col menu Ciao a tutti ragazzi, qui c'è ancora Nolez Oggi sono qui di nuovo sull'Harkor Sono qua sull'Harkor e non con un altro video diverso Perché sto accendo i lavori in camera Infatti se vedete c'è un cavo che passa dietro Sono cose da sistemare Non si vede molto tutto il casino, è di là E quindi non ho un cazzo di tempo per reccare Ehm Dicevano non ho un cazzo di tempo per reccare E sicuramente non ti va a passare gente in camera mia Quindi verrebbe anche un po' uno schifo Però i video arrivano comunque Forse domani no O dopo domani si, giuro, giuro, prometto Intanto spacchiamo gli alberelli Voglio fare un'altra cesta dove mettere tutto il cibo Che sennò Qua sembra la casa Dei puffi, che i puffi si sa che sono disordinati Ora facciamo la cesta subito Subito la cesta Perché ho fatto così? La cesta è subito E la mettiamo Sto lanciando cose a caso La mettiamo qua Ci mettiamo le famose ciotole Che sono un cibo buonissimo I funghi Le costolette di maiale Costolette di maiale Ce le teniamo Via il coniglio Via il pollo E il grano Lo mettiamo qua Guarda che bello Ok Volevo anche salutare Alessandro e Herman Che manca se salutarli Vi voglio bene Quindi vi saluto E E siamo arrivati Al momento che tutti aspettavano Tu avrai un nome Mi hai dato un sacco di nomi fighi E Sinceramente ero molto indeciso Perché Erano tutti molto belli Non volevo deludere nessuno Però purtroppo Il cavallo è uno Cioè più che altro Il cavallo ce ne sono centomila Il coso per dare il nome È uno solo Quindi Quindi Lo avete detto in più di uno Sarà Qua devo metterlo Qua Il cavallo Si chiamerà Ugo Uni Costa solo uno Incentarlo Che figata Ok Per chi sarà deluso Appena trovo altre target Andiamo a Dare i nomi a tutti questi bei cavallini Perché sono teneri E pucciosi E tu finalmente Ti chiami Ugo Ugo Ciao Che tra l'altro Sempre pensate fosse una femmina Però vabbè La società moderna Accetta anche i trans Quindi No problema Ho il cavallo trans Sono il primo in tutto il mondo Dicevamo che l'altra volta Volevamo fare Una farmetta di grano Un po' più seria Cioè ovvero Una farmetta di grano Che non mi richieda Del tempo da passare qua A zappare A mettere giù cose In continuo Ma la cosa che mi fa raccogliere Tutti insieme E lì Lo facciamo una volta ogni tanto Tanto per Per avere un pochino di cibo E sti cazzi Almeno Non passiamo più episodi A cercare la pappa Per fare tutto ciò Ci serve Ci serve Tanti bei pistoni Quindi serve questo La sabbia Da mettere sui pistoni Ne abbiamo poca Per costruire Usiamo il peserisco Perché il granito È più figo Ma non c'è sta Non c'è sta il granito Serve del ferro Anche di più Della redstone E iniziamo a creare subito I pistoni Che già tutto questo legno Non ci basterà Quanti pistoni facciamo Ne facciamo 16 Ne facciamo 16 Facciamo così Vero Tipo così E poi così Ne facciamo 10 Infatti Merda Serve più legna Alberelli Li ripiantiamo Almeno poi Non dobbiamo fare chilometri Per Pigliarci gli alberetti Anzi Sti cazzi Non ce li facciamo Neanche adesso Perché Ho il bon meal Usiamolo Sfruttiamo Sfruttiamo Le nostre risorse Per crescere Uniti E basta Troppe cazzate Allora 10 ossicina Che ci fanno 30 di bon meal Anzi Farina d'osso Parliamo in italiano oggi Farina d'osso Uh Albero Abbastanza carino Tanto bel legno Tanto bel legno Voilà Oh Cresci? Ok Ah Buono Ok Dovrebbero bastare Poi se non serve ancora Torniamo a fare un giro E spacchiamo su tutto Dicevamo 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 Che dobbiamo fare I pistons Per fare i pistons Ce ne mancano 6 Continua a mettere La redstone al contrario di questo So che ho dei problemi cerebrali Ma Perché lo faccio? Il ferro non ci serve più Lo mettiamo via E la redstone ci servirà dopo Quindi stica Però ci servono anche 16 di sabbia Che noi non abbiamo Prima di tutto Dove la costruiamo sta roba? Perché qua è bello Volevo lasciare tutto aperto Però anche qua è bello Cazzo 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 E mo E mo che famo? La costruiamo qua dietro? Qua così? Che guarda verso di noi? Sì dai Sì 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 Ora lasciamo 8 blocchi Dove arriveranno poi gli oggetti Magici strani Epici 1 2 3 4 5 6 7 8 Quindi qua cadrà L'acqua Perché Se forse qualcuno ci ha capito Faremo un sistema di acqua E fa cadere tutto E ci porta tutta la pappa Dentro una cesta qua Quindi iniziamo a mettere I pistons La facciamo centrata Con la casa Facciamo le cose serie Tutti seri Tutti pro Quindi questo è il centro Della casa Guarda lì Guarda lì che bello Tac 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 Altro ho visto anche Nell'ultimo episodio Tanti bei commenti Tanti bei commenti Mi piacciono i commenti Quasi sono 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Impara a contare con Nolez Che lui non è capace E sopra ci caghiamo Tutta la sabbietta Ciao sabbietta 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 E ci serve Altra sabbietta Qua mettiamo questo E tutto il grano Verrà coltivato Qua intorno Tranne che nella fila e mezzo Ovviamente Per ragioni Magiche Ok Quindi la sabbia Dove cazzo vado a acchiapparmela? Qua Qua C'ho la paletta Usa la Nolezzo 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 Vai 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 Corri Corri Da cazzo sto andando Perfetto Perfetto Questo è il primo passaggio Very important Very tenero Very Very Ok very Sempre ok E ora Dobbiamo Direi di fare Prima la parte di Redstone Così Vedete un po' com'è Però così Ci potrebbe essere Un problemino Nolezzo Pensa Ragiona Eh si Mi sa ci tocca fare Tanti bei repeater Il che mi sta un po' Sul cazzo Però Dobbiamo farli Perché Avendo Questi pistoni di merda Dobbiamo posizionare per forza così Perché Non si acchiappano i blocchi Quindi dobbiamo metterci la sabbia sopra E quindi Dobbiamo fare tutti i repeater Che vanno qua Perché poi Qua sopra Sopra questi blocchi Dobbiamo mettere l'acqua E quindi ci tocca Fare così Eh per forza Per forza Anzi Siamo a fare la bacinella Per l'acqua Tanto poi Serve comunque Pop 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 Ah Sto finendo tutta la roba Tutta la roba Anzi Visto che va così Quasi quasi Proprio come idea No Che ne dite se io Ne costruisco metà Almeno vedete un po' com'è E poi l'altra metà la faccio dopo Sì Vi piace come idea Me lo sento Me lo sento Servirà anche altra redstone Tra l'altro Altra redstone Che noi ne abbiamo Veramente un gazz Un gazz Un gazz Allora Zappiamo a tierra Così iniziamo anche a piantare il grano E ce lo raccogliamo a mano Non ho una zappa Ce l'ho in mano la zappa Deficiente Corri 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 Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Perfetto E qua da parte Bisogna fare un'altra cosa Molto importante Sarebbe anche mettere le torce Perché tra un po' Ce la buttano nel sederino E a noi non ci piace Vero Non ci piace Ok Ora che ho finito di fare il deficiente Possiamo andare a riempire Questo coso di acqua Però non ho Chiuso E il che non va bene Ah Ah Quante cose servono Sono sotto pressione Sono sotto pressione Ragiono male Ragiono Ragiono Eh Che notizie Dicevamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto E questo qua Quindi così Mettiamo l'acqua Se no qua si toglie tutto Il nostro lavoro Che noi zappiamo a tierra Ah no A vigna A vigna Zappiamo E l'acqua la mettiamo per intero Perché se no Continua a fare Ed è fastidioso Molto fastidioso Dobbiamo metterla anche qua Qua in mezzo Così bagniamo tutto Perché Bagnato è meglio Ragazzi Voi non lo sapete Ma bagnato è meglio Fidatevi di me Ok Ah Acqua infinita Che bella Che bella L'acqua infinita Eh Basta 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 E voilà Eh Eh Come ve pare Come ve pare Io ho paura di esplodere però Mmm Se tipo ci chiudessimo qua un attimo Ci facciano delle torce Non sarebbe una cattiva Ho del carbone Ho del carbone Sì che ce l'ho il carbone Tanto Tanto vero Ok Dieci 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 Anzi ne facciamo Otto Otto Ah Ah Porco schifo Ok 32 torcine Andiamo anche un po' Qua avanti Perché Veramente Non abbiamo illuminato nulla Voila Voila Iniziamo magari a mettere anche le torce qua sopra Sì perché le metto anche sopra il campo di grano Perché Come tutti sapete Serve il sole Di la vita non è che serve moltissimo Però Affanculo Voglio mettere il sole Mi piace Io metto il sole Ok Facciamola Più o meno uguale Se riesco Tipo È uguale Secondo voi È occhio uguale Di se mi rispondete Nel prossimo episodio Andrà bene così Voila Voila Oggi mi piace dire Voila Proprio scritto con l'H Voila Ta 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 Chi è il più grande zappatore di terra del mondo Io Io sono Faccio gara pure a Vincenzo Laura Praticò proprio Ma come si chiamava Pasquale Pasquale praticò Perché io dico non mi a caso Oh Oh Porco schifo Ok Tanti semini Tanti semini E E Pa 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 Ah Com'è Com'è Visto che mi sa che qua Sull'arcore Non ho ancora parlato Me ne ho parlato solamente nell'altro video Quello dove vado a cercare i diamanti Dove faccio tutto il gioielliere Proprio Guarda la cosa è spawnato Volevo Pronti a partecipare al contest Non esplodere per l'amore del Cioè No 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 Mi hanno ingavolato Regà mi hanno truffato Mi hanno truffato Farò un cost Un cost Insieme al Buon Zampitech Cioè Farò la serie insieme al buon Zampitech Il contest lo faccio io Perché è roba mia Roba mia Dove darò appunto KD giochi Tra cui sicuramente Minecraft E poi gli altri Se vedrà Magari chiedetemi anche Che gioco volete Perché Può essere interessante Vedere Cosa vuole la gente Azzardere anche Magari un GTA 5 Visto che esce Momo E in più Ma Dove spawnano Che è pieno Ma basta Ma basta E in più Io gioco anche Ogni tanto Su un server Con jumpy E Amici Gente A caso così E vi chiedevo magari Se volete anche qualche video Da questo server Qualcosa Boh Costruiamo Eccetera Costruiamo eccetera E la gente entra in camera mia Mentre io faccio le cose Ma Questo è normale Mentre registro l'arcore Quindi Diciamo Se volete anche dei video Da questo server Io ve li porto Perché il knowledge Porta quello che voi chiedete Eh Tac Quanti mob Quanti Ma io ho un ritardo Ho un ritardo Bravo me Bravo me Un applauso Un applauso per questa cosa Altro abbiamo fatto quasi un cazzo Questo farm Che pensavo di finire in questo episodio Mentre si sta Realizzando un po' più lungo Del previsto Un po' più lungo Del previsto Quindi Andiamo di fare il più possibile E di completare nel prossimo episodio Magari mi preparo già i materiali Prima di registrare Almeno tutta la parte Di cercare i materiali Ce la saltiamo Che è abbastanza una rottura di cazzo Tipo la redstone E quelle cose lì Che usa la gente Che fa la moda Tipo dolce gabbana Usano la redstone No Voi non lo sapevate Ma loro fanno un grande uso Di redstone Me l'hanno detto loro E Cioè di realtà Me l'ha detto Il mio amico Che c'ha la playstation 7 In garage Però nessuno può vederla Perché Se no suo papà Si arrabbia E l'ha prestata A suo cugino Quindi in ogni caso Non si può vedere E io devo smettere Di stronzare Mettiamo l'acquetta Che albero bello E' cresciuto Mi mette felicità Questo albero Facciamogli una faccina felice Ciao Ciao patatino Ok Finiamo di zappare A vigna Anche da questa parte Ho fatto giusto Anche se di qua Non automatizzerò Ancora Una beata minchia Però almeno Almeno Ci abbiamo a roba Tutte cose fatte E vediamo anche se l'acqua Bagna il giusto Ok Non lo vedremo mai Perché ho finito la zappa Ho finito la zappa Però se lo fa di qua Lo farà anche di là Ok Raga Eh Forse avete già capito Dove stiamo andando a parare C'è Per farvi capire un attimino Qua sopra Sarà l'acqua Questi blocchi saranno alzati Quando scendono Blu 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 E si raccoglie tutto Cioè Si raccoglie tutto Adesso no Perché Quest'acqua Non è coperta Quindi io faccio gli esempi Di merda Però l'idea È quella Oh Facciamo così Almeno si capisce Tac Vedi E arriva la fiammata Ci sarà tutta l'acqua sopra Quindi si Pulirà tutto Poi vi farò vedere anche il sistema Di raccolta Che è tutta una roba Magica Impegnativa Epica Non è vero Una stronzata Quindi È tutto molto semplice Anche quello Finiamo di mettere Le slab Perché In mezzo Mettiamo le slabs Qua 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 Voila Mi scuso anche un attimo Perché questo episodio Mi sembra venuto un po' Non so se è venuto lungo Di preciso Però sto facendo le cose Veramente di corsa E non mi rendo molto bene Conto di Di quello che faccio Quindi Capitemi Vogliatemi bene Io vi voglio bene E voi dovete volerlo a me Quindi bomba Nel prossimo episodio Finiamo questa roba E ciao ciao